I uffici dell'osservatorio elettorale del Consiglio regionale hanno elaborato una prima proiezione dei 40 seggi proporzionali, 40 consiglieri regionali, che costituiranno il Consiglio insieme ai 10 del listino del Presidente Chiamparino. È un'elaborazione che ha un margine di errore perché è stata fatta su circa metà dello spoglio e che però dà dei risultati già significativi. In particolare il Partito Democratico avrebbe con questa proiezione 19 seggi dei 40 del proporzionale, seguito dal Movimento 5 Stelle con 9 consiglieri. Il terzo gruppo sarebbe costituito da Forza Italia con 6 consiglieri, seguono ancora la Lega Nord con 2, Chiamparino per il Piemonte, la lista civica per il Presidente Chiamparino anch'essa con 2 consiglieri e con un consigliere a testa, Fratelli d'Italia e la civica per il Piemonte di Pichetto, la lista civica a sostegno del Presidente Pichetto. La ripartizione dei seggi all'interno delle province è anch'essa abbastanza articolata. In particolare dei 19 consiglieri del Partito Democratico, 10 sarebbero di provenienza della provincia di Torino, seguiti da 2 a Cuneo e 2 ad Alessandria e 1 ciascuno ad Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli. Quindi il Verbano che ha un posto in lista farebbe il consigliere, questo non era affatto certo. Invece dei candidati del Movimento 5 Stelle, 9 complessivamente, 5 sarebbero assegnati a Torino, 1 ciascuno alle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. Passiamo a Forza Italia che avrebbe la metà dei propri 6 consiglieri su Torino, 3 esattamente, poi 1 a Cuneo, 1 a Novara e 1 ad Alessandria. Ai gruppi da 2 consiglieri, quindi Chiamparino per il Piemonte, la lista civica avrebbe un consigliere a Torino e 1 a Cuneo. Così pure la lista della Lega Nord, un consigliere a Torino e 1 a Cuneo. Infine i gruppi da 1 avrebbero un consigliere soltanto in provincia di Torino, il Fratelli d'Italia, mentre invece la civica per il Piemonte e Pichetto avrebbe il seggio a Novara. Grazie a tutti.